tra poco andrà in onda nero sul bianco settimanale di fatti accaduti nelle marche grazie a oggi mi sento molto chic e shock perché sono stato da moda leader mi sento chic perché da moda leader trovo ogni giorno più di 20.000 capi d'abbigliamento delle firme più prestigiose oltre ad accessori e calzature con marchi di grande qualità mi sento shock perché ho fatto shopping scegliendo il meglio per me e per tutta la famiglia a prezzi straordinari da moda leader ogni capo è scontato del 50 per cento sul costo indicato in etichetta sì perché da moda leader trovi il meglio della moda ma con prezzi dell'outlet moda leader a jesi dal 1987 è il primo outlet del centro italia con uno staff di assoluta professionalità ed esperienza che ti propone e consiglia capi esclusivi ai costi più bassi del mercato moda leader è un maxi store di mille metri quadri con nuovi arrivi settimanali ogni martedì per l'uomo per la donna per i bambini scopri lo stile di moda leader nel maxi store di jesi in via belardinelli 10 aperto anche la domenica pomeriggio moda leader la moda chic a prezzi shock il nostro più cordiale saluto cari amici e bentrovati all'appuntamento della domenica con nero su bianco vediamo subito insieme i servizi in scaletta quest'oggi partiremo da filo trano con i cartelli stradali salva ciclisti il caos viabilità torrette a fabriano si protesta ancora per il reparto maternità parleremo ancora del green pass che è diventato obbligatorio c'è un allarme per le badanti vaccinate con lo sputnik poi ancora parleremo dei prezzi record per il tartufo ed infine scatta tra tre giorni la rivoluzione del digitale terrestre sui nostri televisori questi sono i titoli allora iniziamo dal primo dei nostri servizi come dicevamo filo trano la città del grande ciclista michele scarponi e sulle strade sono comparsi dei cartelli che invitano a mantenere le distanze con chi procede sulle due ruote un'altra battaglia del fratello del grande campione allora sentiamo il servizio di gianmarco minossi dal giornale del 13 ottobre attenzione strada frequentata da ciclisti è uno dei cartelli apposti dall'amministrazione comunale di filo trano per sensibilizzare i ciclisti e le persone sulla problematica sui pericoli della strada proprio qui nel punto dove michele scarponi una delle leggende del ciclismo italiano perse tragicamente la vita nel 2017 ancora più in basso una dicitura che invita a rispettare la distanza di un metro e mezzo tra le automobili e ciclisti una scelta simbolica quella di installare una di queste segnaletiche nel punto esatto in cui il ciclista filo tranese vincitore del giro d'italia nel 2011 venne investito da un camioncino morendo sul colpo fa parte di un'iniziativa lanciata dall'associazione corridori ciclisti professionisti italiani ha dichiarato marco scarponi fratello di michele che rimarca l'utilità della segnaletica per avvisare la gente che in strada ci sono anche ciclisti e non solo le automobili a tal proposito ha rimarcato scarponi è già stata presentata una proposta di legge per fare in modo che questa distanza venga rispettata la fondazione michele scarponi istituita dopo la sua scomparsa danni porta avanti i progetti allo scopo di sensibilizzare le persone a tenere un comportamento responsabile sulle strade la sicurezza è un tema molto importante per noi conclude scarponi speriamo che presto tutti quanti mettano in chiaro un percorso più intenso che vada a risolvere le cause della violenza stradale restiamo nell'ambito della viabilità andiamo però a torrette al caos torrette tra cantieri e sosta selvaggia una situazione che viene da più parti denunciate allora noi siamo andati con le nostre telecamere a vedere direttamente la situazione con marta vescovi dal giornale dell'undici ottobre c'è tanta confusione veramente che l'ultimamente in ospedale un po purtroppo sono venuto un po tanto però parcheggio dove trovo auto parcheggiate ovunque gente esasperata su tutto un cielo grigio e pioggia a intermittenza e quella di oggi è stata una mattinata tutto sommato tranquilla per quanto riguarda l'affluenza all'ospedale regionale di torrette il problema dei parcheggi è da sempre serio ma inevitabilmente con i lavori per la realizzazione del nuovo salesi è peggiorato i parcheggi a pagamento e quello esterno all'area dell'ospedale sono presi d'assalto già dalle prime ore del mattino e trovare un posto è un terno all'otto i meno fortunati sono costretti ad arrangiarsi sfruttando anche i marciapiedi e aree riservate con disagi per i pedoni malati e accompagnatori sono messa malissimo mio marito è sulla seglia rotella che mi aspetta dentro guardi è una vergogna non ci sono riuscita il problema non è nuovo e più volte è stato denunciato sulla stampa in passato una soluzione è stata trovata affidando ad una ditta specializzata la rimozione dei veicoli in difetto poi si è dovuti tornare indietro oggi i controlli sono quelli della polizia municipale lungo via conca di fronte all'ospedale per il resto in molte giornate è il caos dall'ospedale di torrette a quello di fabriano dove ormai da circa tre anni è stato chiuso il reparto di maternità ma i cittadini non si rassegnano e la scorsa settimana sono tornati a protestare daniele andreani dal giornale del 9 ottobre c'è bisogno che questo ospedale rifiorisca come un tempo e non perda pezzi un presidio di fronte all'ospedale profili di fabriano per chiedere la riapertura completa del reparto pediatria la richiesta è quella di risolvere un problema che grava da tempo sulla comunità fabrianese la riduzione delle funzionalità del reparto di pediatria risalgono infatti al marzo 2019 quando l'area vasta 2 comunicò che il reparto avrebbe subito un ridimensionamento a seguito anche della chiusura del punto nascite da allora pediatria fabriano è stato ridotto a funzione ambulatoriale ad oggi operativo solo sei ore al giorno dal lunedì al venerdì insomma all'ospedale di fabriano non si può più nascere questo porta le mamme ad andare verso l'ospedale di gubbio ora crescono anche i disagi per le famiglie con i bambini c'è la convinzione comune che sia collegato al punto nascita non è collegato al punto nascita il punto pediatria come reparto è un reparto che ha dignità a sé a fabriano è stato chiuso e adesso è stato sostituito da un servizio ambulatoriale di sei ore che non è sufficiente per le necessità dei genitori e dei bambini di fabriano c'è la grande incomprensione del fatto del perché sia stato chiuso per un discorso di mancanza di pediatri quando nel tempo sono stati fatti dei concorsi per pediatra stabile a reparto a fabriano poi assegnati alle sedi di Senigalli e di Iesi complessivamente tra Senigalli e Iesi e Fabriano ci sarebbero i pediatri per tenere aperte tutti e tre i reparti senza nuovi concorsi i promotori dell'iniziativa sottolineano come il reparto pediatrico non sia da intendersi solo in relazione al punto nascite il problema che emerge inoltre è quello della mancanza di personale medico in particolare di pediatri nella zona in cori manifestanti hanno chiesto un interessamento all'assessore competente a tutta la giunta regionale i bambini hanno bisogno non di un ambulatorio perché? perché quando c'è bisogno di ricoverare c'è bisogno di posti letto ci sono delle branche chirurgiche che operano bambini che avrebbero bisogno di posti letto di un'area pediatrica siamo rimasti senza pediatri ce n'era uno storico il dottor Maddaloni è andato in pensione e non è stato sostituito ci sono delle ore da attivare sul territorio che non sono attivate non sono state attivate per cui alcuni comuni limitrofi sono rimasti anche senza il pediatra di base non possiamo rimanere senza un presidio come questo questa cittadinanza abbia manifestato civiltà chiede solo quanto gli compete per ripartire e di avere un punto nascita è una cosa essenziale venerdì come sapete bene anche perché i mass media non hanno parlato non parlano d'altro è scattato l'obbligo del Green Pass nel mondo del lavoro ci sono varie situazioni complicate tra questa anche quella delle badanti vaccinate con lo Sputnik che non dà diritto al certificato verde sentiamo Marta Vescovi dal giornale del 14 ottobre l'introduzione del Green Pass nei posti di lavoro riguarda molto da vicino le famiglie soprattutto quelle che per esigenze particolari hanno la necessità di affidarsi a badanti e collaboratrici 26.000 lavoratori e le lavoratrici stimati nelle marche nel 2020 di questi circa 16.000 sono badanti 10.000 colf per oltre il 92% si tratta di donne soprattutto straniere un esercito di lavoratori che dovrà munirsi di Green Pass per assistere anziani e aiutare tra le mura domestiche anche nel loro caso la verifica spetta al datore di lavoro e il problema principale riguarda il fatto che diversi lavoratori stranieri molti dell'est Europa sono immunizzati con Sputnik non riconosciuto in Italia da qui la scelta di chi nel settore lavora di una selezione a monte fondamentalmente persone che non sono vaccinate non le prendo in considerazione nel senso che chiedo ovviamente alla famiglia ma le famiglie ora vogliono tutte persone vaccinate e per me è un rischio troppo grande prendere persone che non hanno scelto di fare il vaccino c'è stato un caso di una persona che aveva avuto lo Sputnik ovviamente la famiglia non l'ha accettata io dall'estero non faccio venire nessuno a meno che non sia una che ha già lavorato per me che è andata magari per motivi familiari a casa ma io ho sempre presentato persone che o conosco o che sono referenziate da qui perché è inutile far spostare una persona che poi magari non viene accettata dalla famiglia ma molte volte neanche loro accettano un lavoro il problema anche per questo comparto è però complesso secondo alcune stime sono diverse migliaia i lavoratori che non hanno ancora ricevuto il vaccino e che dovranno comunque essere almeno muniti del risultato negativo del tampone una situazione che rischia di mandare in tilt la complessa organizzazione di quelle famiglie che devono gestire anziani e malati cambiamo decisamente argomento le scarse piogge dei mesi scorsi hanno portato ad una poco piacevole conseguenza per il tartufo del quale le marche sono una delle terre regine allora è iniziata la stagione ma i tartufi sono pochi ed i prezzi da record Caterina Cantori dal Videogiornale dell'11 ottobre Una raccolta scarsa ma profumatissima almeno stando alle previsioni è quella del tartufo i cui prezzi del bianco pregiato a causa della siccità sono destinati a schizzare verso i 4.000 euro al chilo per il bianco pregiato la raccolta del tuber magnatum picum è iniziata l'ultima domenica di settembre e vede le prime pezzature andare dai 2.000 euro al chilo per quelle piccole fino a 15 grammi ai 3.200 per quelle medie tra i 15 e i 50 grammi fino a 4.000 euro per quelle oltre i 50 il prezioso tubero infatti al momento è quasi introvabile a causa dell'estate senza piogge oltre ad influenzare la quantità la scarsità delle precipitazioni condiziona anche la forma che a causa del terreno duro non sarà rotondeggiante come invece avviene in presenza di suolo morbido il tartufo bianco infatti necessita di terra umida sia nelle fasi di germinazione che in quella di maturazione nulla però è ancora perduto le piogge di questi giorni potrebbero infatti favorire le prossime raccolte comunque vada quello che non verrà meno è la qualità altissima e il profumo intenso che inebrierà le fiere in calendario dopo un anno di stop a causa della pandemia è già partita Pergola che termina il 17 ottobre e lo scorso weekend è iniziata anche la mostra del tartufo bianco pregiato di Sant'Angelo in Vado il 20 ottobre invece tocca ad Acqualagna e alla sua fiera del tartufo bianco giunta alla 56esima edizione a novembre appuntamento ad Amandola con Diamanti a tavola scatta tra tre giorni il 20 ottobre la nuova rivoluzione del digitale terrestre con molti canali che non saranno più visibili sui vecchi televisori allora tutte le informazioni in questo servizio di Gianmarco Minossi l'inizio del processo di switch off del 20 ottobre è sempre più vicino da quel giorno con il passaggio di alcuni canali dalla codifica MPG2 a quella MPEG4 inizierà la graduale migrazione al nuovo sistema digitale terrestre DVB-T2 una tecnologia avanzata che consentirà di sfruttare la rete 5G e di godere di una qualità e definizione dell'immagine più alte la data di mercoledì 20 ottobre è una sorta di apripista un passaggio di un processo che coinvolgerà pian piano tutta la televisione italiana la cui conclusione è prevista per il prossimo 1 gennaio 2023 una tappa obbligata che costringerà milioni di italiani a cambiare apparecchio TV e per il quale è stato previsto un bonus rottamazione del governo una trasformazione che coinvolgerà più o meno 12 milioni di apparecchi in tutto il paese Rai e Mediaset al momento sono gli unici network che hanno svelati i loro piani per la data del 20 ottobre un ingresso scaglionato dei loro canali nel nuovo universo una possibilità che è stata garantita da direttive ministeriali i primi canali a passare al nuovo standard saranno quelli tematici sia per la tv di stato sia per il gruppo del biscione per gli altri canali in linea di massima quelli con i contenuti più generalisti non cambierà nulla almeno per il momento il consiglio è quello di effettuare una risintonizzazione la regola più semplice è quella di sintonizzarsi sul canale di test della nuova tv digitale il canale 100 Rai e controllare che appaia la scritta test HEVC main 10 la stessa verifica si può fare se vedi canale 5 sul canale 5 della tua tv anche selezionando il canale 200 Mediaset e verificare se appare la stessa scritta solo nel caso in cui anche dopo aver terminato tale procedura persistessero problemi nel visualizzare la schermata si dovrà necessariamente acquistare un nuovo apparecchio per poter continuare a vedere i programmi trasmessi dalla televisione italiana anche dopo il 1 gennaio 2023 e con il digitale terrestre cari amici siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero Subianco il nostro approfondimento che tornerà naturalmente domenica prossima a questo punto allora a me non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centromarchia arrivederci Nero Subianco in collaborazione con l'acquisto di un'auto va valutato attentamente importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente concessionaria Frulla da più di 40 anni nel settore dell'automotive storicamente con Fiat ora anche con Lancia e Abarth nei suoi saloni di Senigallia in via Botticelli Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista Frulla vi propone un'ampia serie di servizi autovetture e veicoli commerciali nuovo e usato anche aziendali e chilometri zero a completare il tutto la possibilità di finanziamenti personalizzati assicurazione furto e incendio estensione della garanzia Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita affidato a personale altamente specializzato sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali tutti i lavori di officina ora anche preparatori Abarth cambio gomme carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali con un parco mezzi adatto ad ogni situazione Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante con il servizio di depositeria giudiziaria in caso di necessità il numero 335 77 67 224 è attivo 24 ore su 24 una passione di famiglia da più di 40 anni a Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marla responsabile commerciale Marco responsabile soccorso stradale e amministrativo e Mauro responsabile assistenza post vendita insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori una continuità che è ulteriore garanzia Frulla a Senigallia in via Botticelli 43 concessionaria Fiat Lancia Abarth e Fiat Professional dal 1971 passione in movimento